Sono Armano, direttore creativo di Armano Cervino. La moda mi ha sempre attratto. Ho sempre ritenuto che fosse lo specchio del momento. È sempre stata la mia passione e ne sono entrato a modo mio. Ho sempre amato il contrasto di materiale, la pelle, il jeans e il pizzo. Ho sempre pensato che il pizzo si poteva usare anche di giorno e quindi è entrato in maniera molto forte nel mio brand. Anche perché Firenze è la capitale del ricamo. Il pizzo è speciale perché ha capacità di esaltare in maniera raffinata e mai volgare la femminilità e la sensualità della donna. L'artigianalità è il vero lusso che rappresenta il made in Italy. Lo stile italiano rappresenta semplicemente l'eccellenza per materiali, tagli, design e know-how nella lavorazione. Ogni prodotto fatto in Italia è carismatico e ha una energia che lo distingue da qualsiasi altro al mondo. Mi piace lavorare per le donne, per tutte, non solo per le star. La donna che amo è senza età. Può essere bella per tutta la sua vita. La mia vita è ancora piena di desideri, soprattutto non vorrei mai smettere di sognare.